benvenuti nuova puntata persa in auto oggi il pit stop e da autogruppe in corso giugno cesare 324 a torino ad un passo dall'imbocco per la torino milano naturalmente con me c'è giovanni maggiori ciao giovanni ciao vittoria e bentornati tutti voi andiamo subito scoprire l'offerta esatto sono partiti gli incentivi vi aspettiamo partiti gli incentivi andiamo suzuki swift ibrida due ruote motrici o il grip e cambio automatico a partire da 16.800 con gli incentivi appena partita affrettati e siamo qui con suzuki imisi suv più compatto in circolazione a partire da 16.800 anche con trazione integrale e cambio automatico venite a scoprirla grazie agli incentivi statali e qui invece amici il classico pitara 1.400 ibrido 4 ruote motrici ed eccola qui l'ultima arrivata in casa suzuki suzuki s cross due ruote motrici quattro ruote motrici cambio automatico ovviamente ibride a partire da 22.240 con incentivo statale venite a scoprirla a provarlo e siamo qui invece con l'icona di suzuki suzuki giri a partire da 20.600 più io venite a provarlo e qui invece troviamo suzuki a cross l'ammiraglia di caso suzuki 98 chilometri di autonomia con tecnologia plug in da 0 a 106 secondi con 306 cavalli venite a scoprirla con incentivi a un prezzo fantastico e come sempre amici vi ricordiamo il nostro vasto assortimento di virgoli usati che potete venire a scoprire provare finanziare e con garanzia suzuki grazie dobbiamo salutarci prima però di farlo vi ringraziamo per essere stati con noi fino ad ora naturalmente ringraziamo giovanni maggiore ciao vittoria e grazie a tutti voi per averci seguito vi ricordo due pilastri di autogruppe s vale a dire incentivi statali e auto in pronta consegna dove corso giuglio cesare 324 a torino alla prossima vi aspettiamo